Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a prendere il trofeo duro come la roccia. Metti a segno il terzo pugno di un contrattacco titanico per due volte in una sola battaglia. Il contrattacco titanico si sblocca esclusivamente quando usate la parata titanica con il giusto tempismo, quindi quando vi sta per colpire dovrete usare la parata titanica e a quel punto colpite il nemico per tre volte, fino a tre volte. Ve ne accorgete se state facendo tutto giusto perché compare il pugno di titano e c'è scritto sulla destra contrattacco titanico. Basta farlo per due volte sullo stesso nemico e il trofeo sarà vostro.